Dunisiani oggi siamo su Piggy Ciao Ok ho rotto tutto per 3 secondi Allora forza fate play E l'ho fatto Ok perfetto Oggi si inizia il nuovo capitolo misterioso Del nuovo pazzesco Piggy 2 Dunisiani siete contenti? Vi ricordate di Piggy 1 Quando facevamo quella modalità bellissima Mettiamo la 1 La 1 ovviamente Mi pare giusto Mi pare logico Mi apri però aspetta un attimo Io non ti sento No come? Ti sento basso Un po' più alto Devi parlare più alto Devi parlare Sì vabbè adesso sì Però devi parlare più alto Mannaggia Adesso Vabbè Mettiamo player? Sì 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 Mettiamo player ovviamente Va bene Mi stavo concentrando Vero che ricordi Poi è molto inquietante Questa schermata dietro Mamma mia Questa schermata Sì io mi stavo tipo Sistemando sulla sedia Perché porca misera Questa sera non va più in basso Adesso vedete che cado per terra Gabby il Piggy Che schifo Gabby Ma io non potevo tipo Modificare le cose Non lo so No Vabbè parlate bene Però mi raccomando Dice Oh detective Sarà meglio che Tu sia qui per Perché L'investigazione Mi ha lasciato in questo posto E sicuramente qui lei Non so Non so di cosa sta parlando No che schifo Devo aspettare Ma perché io ho vestiti rotti? Adesso dice Guardami un attimo Hai vestiti rotti Che schifo Gabby Non ti vergogni Di essere nuda Ma non sono nuda La maglietta e il pantaloncino di Roblox Ti devi vergognare No Che ci posso fare? Eh non lo so Però ragazzi adesso Così che facciamo Boh Allora com'è che si fa Questa macchina No no Aspettiamo Il cavolo proprio Esatto Allora ovviamente Gabby C'è una chiave viola Tu sai quale sono le regole Gabby Giusto? Esatto Devo ammazzare prima l'accenta Eh giustamente Giusto Allora Questa purple key Sai dove va ammessa Cara Chiara? No è la prima volta che gioco Eh C'è una scrofona C'è una scrofona gigante Aiuto Andiamo via 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 Chiara 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 Guarda quanto è stupido Guardalo guardalo E puzza pure Puzza di vittime Oddio Ma come si aprono le porte? Ah ecco Eh sì No 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 Veramente scusa Adesso io mi sto impampigliando Aiuto 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 No non vi vedo più Comunque questa mappa è veramente difficile Cioè nel senso È tutta strana Perché ci sono 30.000 case E io tipo No vi ho persi Meno male Meno male Aspetta Facciamo una cosa Che peccato Allora vabbè Facciamo che adesso Andiamo Boh da Da trovare la Purple key Vedo qualcosa Secondo me per la Purple key Dobbiamo aprire altre cose Tipo questa Può essere Tu sai dov'è questa Chiara? No Eh beh Ma dobbiamo cercare Madonna ma io Mi stai spaccando i timpani Com'è possibile Oh scusami Allora non credo più Oddio No ma per Eh vai via Vai puzzi Vai via Dov'è la tuta? Ho aperto una porta Denis Come hai aperto una porta Chiara? Eh ti ho detto Eh ti ho detto che ho andato Dove sei? Dove sei? Pensavo sia No 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 Guarda Qui c'è la Cesta viola Mi sta spaccando i timpani Chiara Non è possibile No grazie Ah sì 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 Non so comunque perché Chiara questa cosa È una cosa molto inquietante Secondo me ti hanno alzato Il microfono No però C'è una cosa Dietro di noi Che fa Aiuto 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 Attenta Allora Gabri facciamo No 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 Le sedie Oddio Madonna ma io non so Come si sentono in questo Forse dovevamo Prima fare la prova audio Eh esatto Vai via Puzzi vai via Non è vero Vai via No Ma io non ci credo Come fa Non ho cliccato niente Ma Esdi Ti sembra che devi cliccare Ti ho detto di andare via Caro Gabri Buio L'ho sbagliato Eh io non ci credo Eh ma chi sarà mai Chi sarà mai Pichi Che novità Non me l'aspettavo proprio Guarda Non si sapeva proprio Non ho affatto usato I comandi Comandini Ma assolutamente No no Assolutamente no Non è una cosa da Denis Esatto Non lo farebbe mai Oh come vi permettete Adesso io vi picchio Scherzo No Prego Per tutta la legge Scherzo ovviamente Non sono serio Sono così preoccupata Poi magari mi denunciano Come Ah adesso però Oddio Userò le mie orecchie da cavallo Per Per Mettere Cosa Sedere Eh Avete capito bene Ne ho creature Cos'è che vuoi fare tu Cos'è che vuoi fare Allora prima di tutto Non usare questo tono Con dunis Perché altrimenti Lunis Si nervosisce Scherzo Allora Gabri Gabri Adesso Parleremo con Gabri Perché chiaramente Gabri non c'è da tanto Raccontaci un episodio strano Della tua vita Della tua vita Da cavallo Perché sappiamo Tutti che Gabri In realtà È un cavallo Cosa Gabri Dici Dici Però bene Per favore Bene Oddio No 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 Ma se dice No vabbè Non ci credo Perché ti metti davanti Perché ti metti davanti Gabri È avuto ad abbracciarti Eh Vuoi abbracciarmi Così bene Gabri No no A Piggy no Ah no Non mi vuoi bene Ok va bene Io questo me lo segno Nella gente No ma se Ti scrivo nel Death Note Sono a Piggy Anche a voi Dunisiani da casa Vi scrivo nel Death Note Se osate scrivere Dunis Ti voglio bene Non ti voglio bene Nei commenti Oh Come ti permetti Dunis Ti voglio bene Nei commenti Solo a Piggy Non voglio Solo a Piggy Non voglio bene Ok io quando ero Piggy No no ho capito Ti volevi bene Esatto Quando eri Piggy Dici Bu che schifo Gabri Che faccio Esatto No ma mi capivano le porte Perché non la chiave in mano Eh beh Chiara Mi interessa questa cosa Dimmi un po' tu Non so No ma volevo raccontarti Un fatto della mia vita Un fatto interessante Raccontami Raccontami un fatto reale Della tua vita Vai Tipo Raccontami di quella volta Quando ti eri trasformata In foca grassa indiana Allora Esatto La foca grassa e Gabri Quindi non so Come hai fatto a compondere No Assolutamente no Sei tu Questo video sarai tu Ah ti prendo Esatto È diventata la cinta No 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 Ti scurreggio in faccia No 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 Per favore Per favore Sì 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 Dai no vieni subito Vieni subito qui Ho creatura del normale No ti prego Ah ma io non ho usato Le trappole Mi sono appena ricordato Che ci sono anche le trappole Ah ti prendo No che schifo le trappole Aiuto Ah hai fatto male Chiara Hai fatto molto male Hai fatto molto male A fare questa cosa No no Cosa Ah 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 Stupida Ah 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 No Mi ha giocato Mi ha giocato Mi ha giocato È stato incredibile 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 Questa cosa No 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 Allora Nascego a morire prematura Cosa Sì 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 Morirei prematuramente Perché se È questo tuo destino Da foca grassa No scherzo Ovviamente No no WF magari mi dice Eh che schifo No assolutamente Allora Non puoi entrare là dentro Chi ti ha adattato Permesso Oddio Non me l'aspettavo Eh no Ti sei preso pure Una scurreggiata Eh Una cacatina Nelle mutande Che schifo Vabbè Facciamo il play Adesso Book 2 Ok Facciamo ok Book 2 Allora Ti sarà mai big Adesso Vabbè Questa volta Non posso essere assolutamente Io Perché È una cosa È una cosa veramente illegale Essere pig Per due volte di fila Quindi Sarà O Chiara O Gabri Tu Chi è che vuole essere Domanda Perché in questo video Chiara Non è ancora stata pig Quindi giustamente Vuole essere Esatto Esatto La prima mappa È comunque complicatissima Questo pig È abbastanza Perché è tutto un labirinto Tutto un labirinto Esatto Ma io vorrei provare Anzi Facciamo la cosa 2 La 2 La 2 Ok perfetto Bene Adesso il pig Sarà La simpaticissima Chakira Qua presente Mentre ci racconterà Di quando Lei era diventata Stantanbimba Cos'è Stantanbimba Ve lo racconto Stantanbimba Tu sai cos'è Stantanbimba Allora Praticamente Nel passato Lei era una strega Demoniaca Dell'universo Maligna Strega demoniaca Dell'universo Era diventata Ma Sì Tutta maligna Però Capito Cioè Tutta Ah ma molto maligna Assolutamente sì Ora vedete I miei pighi Bellissimo Vediamo il tuo pighi Ma quale sarà mai Il pighi della Chiara Eh sapessi Oddio Che brutta cosa C'è Zizzi qua Che dice Ricordati Noi stiamo Andando per le batterie Ma questa volta Prendo le carote Eh cosa Ma che sento Ha questa storia Non ne ho idea Scusatemi Ma è diverso Oddio Secondo me Ho qualche errore Di traduzione Nella testa Allora Gabri Adesso Seguimi che Andrà tutto bene Allora Eh ma non possiamo passare qua Non potete fare teaming È vero Giusto Allora Quello che posso Possiamo e non possiamo fare Lo decido immediatamente Io E mai più dire Infatti lo so Io scherzavo Una cosa di questo tipo Mai più dire Una cosa di questo tipo A Dunis Al mitico ed incredibile Dunis Vedi Gabri Te l'ho detto io Scusi Dunis Io stavo scherzando No tu non stavi scherzando Io lo so benissimo Che tu stavi Ma chi è su tizio Non lo so veramente Ma che vuole Chi è su tizio Ma cosa di questo tipo Gabri Eh vabbè No allora No c'è un au No 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 Ciao Vi piace il mio pig No no Ah che brutta No 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 È bellissimo È bellissimo Qua dice Non mi posso muovere Dalle librerie Perché metto i libri nel sedere Dice Vabbè Cosa Ma metto i libri nel sedere Boh Ha detto L'ha scritto lui E non so Boh Secondo me è un po' strano Oddio è troppo bello Allora fermi un attimo tutti Perché stiamo parlando male Prima di tutto Chiara alza un po' la voce Gabri Oddio Scandisci meglio Quelle parole Che ti ritrovi Fai A B C D A B C D Bravo Bravo Io devo fare i corsi di edizione I miei amici Perché non sanno parlare Questa cosa non è possibile Cioè No nel 2020 Ma cosa dobbiamo fare Scusate Eh sì Non sapete parlare Ah qua possiamo entrare invece No 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 Gabri ma cosa mi vieni addosso Ma perché io stavo seguendo Gabri Non è che non è morto Allora Prima di tutto Lascia stare il povero Gabri Perché è povero lui Cioè Allora devo prendere te No assolutamente no Come oggi E chi devo prendere scusa Nessuno Forse Ah ok Va bene Allora Allora Vediamo un po' come questa mappa Mettiti in un angolo C'è delle macchine No Non mi interessa Se non te mi interessa Che ci sono delle macchine Nella mappa Chiara Eh A bello Rai Guarda Guarda Bravo Bravo Gabri Tu si che sei Mitico Come Ma cosa hai trovato Ah un'altra Ah un'altra Ok Allora Metti immediatamente giù Quella chiave che hai trovato Bene Prendila te La devo prendere io ovviamente Io sto soggiorando con la zebra Allora dai la carota Al signor Alla signor Tizia La hai presente Dov'è Dov'è E come si fa Al poni Deve andare al poni Praticamente E dare la carota al poni Ah e dove al poni Il poni Al poni Al poni piacciono le patate Le carote Vabbè Buonanotte proprio Insomma Cioè ci sono tante cose Allora il poni Ma dov'è il poni Ti faccio vedere io così Almeno Ah ecco E questo è il poni Ah no non è questo Ma in realtà non è un poni Sì sì è questo Ah sì è questo E come faccio a dare la carota Cosa caspita sta facendo Ma io non ci credo Cioè è scemo Cioè scusa Gabri Ma è scemo Sto poni qua No non è normale Sì infatti Ha fatto tipo Inni Tutto così Ma serve una scala Sì serve una scala Mamma mia Che pizza ho Queste scala ma io Eh pure qua Allora vieni con me No veramente Tu mi vieni Questa mappa è una cosa Incredibilmente Ma poi non ci sa Sì infatti Oddio cosa c'è qui Eh infatti Ah le forbici Hai presente dove vanno Io mi ricordo Ok io ho ancora La chiave arancione Mi sento esclusa Forza No ti senti Tire perché tu Chiara sei Un fattore importante Importante Di questa Di questa mappa No Se devi Ucciderci Vedi Gabri Qua praticamente Vedi a volerli fuori Eh no Ah Hai trovato un fascio d'erba Che praticamente Glielo puoi dare Alla signora pignatta A Zizi Sia Quello che La signora pignatta Esatto Qua è Gabri Stai trovando un sacco di cose utili Anche la chiave viola Tu ti ricordi caro Gabri Dove va la chiave viola No La prendo Ok Allora Prima di tutto Andiamo a Allora Prima di tutto Andiamo insieme Allora Facciamo così Gabri Seguimi Ok Perché Cioè se tu Non è che puoi Cioè devi far vedere Praticamente quello che facciamo Nel video Altrimenti non è che puoi Aprire le stanze Così a caso A caso Quindi Tipo oh Magicamente si è aperto una stanza È un po' illegale questa cosa Però io mi sto chiedendo Ma che ti dice di andare Io ho veramente scioccato da Gabri Ah eh scusa No io non so Vieni 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 Vabbè la stanza viola Eh non so La dobbiamo cercare Perché Ah ho trovato questa Orange key Ah bella la orange key Ah l'ho trovato la rossa Hai visto Vieni vieni con me caro Ah questa Ah ok 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 Cosa c'è qua dentro Una batteria Cosa si fa con la batteria Scusa Vabbè Prima apriamo la stanza rossa Che magari Vedi questa stanza Questa Questa cosa È molto più No più Più veloce Questa modalità Molto più Meno Meno dispersiva Sì esatto Eh Non sapete Dun isegni cosa vuol dire Dispersivo Vuol dire che praticamente Ti disperdi in giro Non sai Tu dici Oh ma guarda un po' Dove siamo qua Però intanto Ho noto con piacere Che Chiara è morta Vero Dove è andata No io ho paura Secondo me è davvero morta No 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 Secondo me tipo Sei mutata Per qualche motivo No che scusate Mi è venuto un attacco di allergia E non volevo struttare Nel video Povera Chiara allergica Però hai fatto bene Che ti sei mutata Per l'attacco Perché non volevamo Sentire il tuo attacco di allergia Quindi Eh beh Immagino Esatto Esatto Cosa sta facendo Chiara Sto socializzando con la zebra Secondo me lo stavi Baciando Per non dire qualcosa No no Secondo me stavi facendo Vieni qua zebrona Zebrona No 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 Che poi tipo Che poi No Gabri Dagli il fascio d'erba Scusate Eh però poi c'è lei Che vuole ammazzarci Vabbè Chiara Io direi che puoi partire A fare il pig Oh finalmente No sai Mancano quattro minuti e mezzo Eh Che peccato Cioè Eh No anzi Adesso stai ferma Non ti puoi più muovere Ok No no dai Vieni qua Dai prendi Gabri No vieni che sto ferma Eh Però Dove è finita la chiave Allora Gabri Mettiti nella sedere Con la batteria Prima di tutto Direi che è una buona idea Perché io non Oddio Non so dove si deve mettere Questa batteria E non sono venuta Oddio Ma qua ci sono Un sacco di cose Che non No Non si capisce niente Per favore Per favore Eh Cosa stai dicendo Gabri Andiamo a prendere Le ciuffo d'erba Ah c'è questo Così lo diamo Ah giusto No Gabri scappa Scappa C'è la porca La porca Maia La schifo Eh L'ho detto No Ti hai chiuso la porta in faccia Oh Gabri Io ti sto salvando Le cappette Sei contento Eh meno male Così se no Poi dopo Ah Qua dentro Che è successo No Non è giusto Prendi il fascio d'erba Bravo Ok Vai Puzzi tu Guarda che puzzona Che è questa chiara Dov'è la zebra Ah eccola Non si lava mai Chiara praticamente fa Fa cose schifose Con la zebra Guarda adesso che la zebra No Chiara ha messo la trappola Alla zebra No No Questa zebra è coglione No Ok No Mi ha dato un calcio Ricordatevi che verso i 13 minuti Ece da Vi pare una cosa Ok No 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 Guarda la mia posizione In questo momento Eh esatto Te l'ho detto Te l'ho detto Te l'ho detto Te l'ho detto Io che Chiara fa l'amore con il sapore Scusate No che schifo Devo dire Questo cosa il sapore era La zebra Dai mi ha dato un calcio Eh sì Un calcio No Come faccio Come faccio No vabbè raga Gabri sta Ok Non male Non male Gabri sei Gesualdo No no Non è giusto Gabri morirai No Non uccidere Gabri Il povero Gabri Sarà solamente una vita Scusate No 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 Chiara Puzzi vai via No No Via 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 Madonna Sì io l'ho detto che prendo Gabri No che schifo No 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 Però a me fai fare una cosa Che adesso devo Gabri dove hai messo Quello ricce trasmettito Ce l'ho io ce l'ho io Ce l'ho io Ma sono troppolenta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni Usalo Fai arriva lei Utilizzalo Chiara Puzzi vai via No 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 Chiara vai Mannaggia No no Io non prendo Eh ok Oh Ma è veramente una fatica Dunisiani Una roba Eh infatti Eh ma non è giusto Io mi sono aperto Ciao Denis No Ciao Gabri No Gabri Ciao No 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 Sì è vero di trappole È brutta cosa Madonna Che brutta cosa Gabri Eh Gabri Vabbè No Sentite le pene dell'inferno Che sta soffrendo In questo momento Gabri Non voglio morire C'è tra di te Buon Dio Chi lo vuole Eh Nessuno vuole morire No Gabri Come hai usato Purtroppo a volte Si deve nei giochi Dico Ah Qua c'è un'altra ricce trasmittente Gabri Devi usare la ricce trasmittente qua Io ho appena usato prima Gabri Ah puzzone Come ti permette Seguo Dov'è la ricce trasmittente Ah è lì No 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 Chiara stai ferma un attimo Che Gabri deve usare la ricce trasmittente Eh l'ha usata e basta Ok Ora basta Cos'è che No non l'ha usata Dove sei Sì l'ho usata L'ho usata Quindi ora posso aprire Bene Cosa c'è Non mi fa aprire Cosa Come no Ah perché non Non fa aprire le Queste cose qua No Non le fa aprire Praticamente fa altre cose Questa ricce trasmittente Cosa Una ricce trasmittente Che si mette Praticamente Le antenne Si mettono nel sedere Cosa Eh le Allora però scusatemi un attimo Che vuol dire scusami un attimo Ma perché sto pensando a quello che stai dicendo Fermi tutti Siete dei morti viventi O creature del male No non è vero Chiara Chiara Tu sei depressa dalla vita No no Vedi mezz'ora che sto parlando E mi sta avvenendo mal di ora Ho capito E anche a me cara Chiara Però cioè è possibile Che non ridi manco per una volta Cioè ti devi mettere a piangere Ti devi mettere a disperarti sulla tua vita No 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 Devi fare a che tristezza questa vita No Cioè è mizzica Ero troppo triste E invece Guarda un po' Però Guarda un po' Sto cercando di prendere Gabri Ma io sono troppo lenta Ma non essere competitivo Concentrati sul Su 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 quello che devi dire No No per un secondo Per un secondo A volte Gabri Purtroppo nella vita No Nella vita Ascolta il mio monologo Creatura A volte nella vita Gabri Capita di trovarsi in situazioni Così complicate Così brutte Così difficili da accettare Questa casa Questa è tutto fondo Ma Sì Dobbiamo avere la forza Di andare avanti E di dire Stop Io prendo in mano La mia vita Diciamo Chiudo le vele Che Aspetta Adesso io ho fatto La stessa Ancora a Chiara Sì sì Gabri deve entrare Come se fossimo Come se fossimo Nel mare E praticamente Deniz Cosa vuoi da me Cosa c'è Dimmi Cosa c'è Chiara Deniz cosa Niente Niente Perché mi hai detto Deniz No dimmi Dimmi No quello che hai detto Ma cosa che avevo detto È una cosa già utilizzata Esatto No l'avevo utilizzata Con te È appunto Per questo E vabbè Purtroppo Non si può Vabbè Allora Non l'ho mai usata Con nessuno Va bene Questa cosa Quindi Praticamente Ti ti hai messo come Piggy No affatto Ti hai visto nella chat No che schifo Che schifo Che schifo Avete interrotto il mio monologo Quindi Vabbè chi se ne frega La barca affonda E affonda Insomma Cosa No dai La barca affonda No Insomma Adesso ci dice questa qua Ricordate Noi siamo Batterie Sì 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 Dietro Dice le batterie Eh certo Ma Per metterle anche dall'altra parte Dice questa signora Ecco perché la zebra faceva cose strane Chi faceva cose strane La zebra Sì 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 La zebra Che schifo questa zebra Esatto Ah prima è abbandonata No Non abbandonatevi Come no Tutta Perché questa cosa Allora però Mannaggia voi dovete parlare con me Non fra di voi Mannaggia Mannaggia Dovete parlare fra di Ma hai fatto che ho detto che io non so la mappa E con me lo dicevi Ma tutti e due No Allora la mappa Cosa vuol dire la mappa Vabbè comunque Non voglio pensare Non rompere le palle Chiara Dai Su ma che cazzo Oh Cristina d'Avena Delle Rosanne Santiago Gesualdo Simpimpo Eh ma che due sparo Cosa vuol dire Ma che due struppacciandole Cosa Ma che due spastiche Di space Musmane Basta Eh Devo chiamare il WWF Per caso No Beh perché Scusa chiamo animali Sì Te l'ho detto Sei una foca Grassa pure Gari Vieni subito qua No Eh sì Devi proprio venire qua Madonna mia Adesso prendo Gabri E glielo No vabbè dai Cosa No No Sì Eh vabbè Dennis Mi chiamare il solito Gabri Eh cosa Ah che stupidino Questa ti accorre Ah anche te Prendo Adesso vi prendo Se osate Vi parla ancora una volta Vi 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 pianto in asso Sapete cosa vuol dire No No Dai Nel senso che vi lascio Per sempre Sì lo so No Vabbè A volte capita nella vita Pure questo Di essere lasciati Dai propri amori Dai propri sguardi Eh ma ok Questa parte è un po' cringe No 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 Tipo Con le Con le Corbellerie Cosa Sono tutte scempiaggini Tutte corbellerie Oddio È vero Chiara Ma Cosa sta facendo questo qua È tutto scempiaggini Non lo so Aiuto Dai che noia Questa mappa È impossibile prendere qualcuno Comunque con questo piggy È impossibile Quindi Ma poi tu hai il piggy brutto Segui Gabri E questa Chiara Guardate Ma quindi Tenga brutta Ma cos'è Dove è la serratura verde Ma che faccio Gabri spostati L'ho già usata La serratura verde No 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 Allora non ci siamo proprio Ho detto che non dovete parlare fra di voi Dovete parlare di cose Non mi interessa Ma infatti lui mi ha chiesto Io le ho risposte Basta Porco il ca No scusate Scusatemi un attimo Perché Eh dovreste sapere Gabri Non chiedere chiara Non rispondere No È semplice Non mi sembra difficile una cosa di questo tipo Capisco Capisco E comunque Visto che ormai abbiamo finito il video Adesso vi dovete far uccidere in due secondi No Sì Che cosa triste Quindi Gabri ti vedo Stai immediatamente fermo Fermo Vai capire Sacrificati per me Ma dove sei? Allora prima di tutto Gabri Perché parli tipo Va bene? Eh no È un po' morto Gabri No perché non voglio Mi spiace ma è la vita Non vuole morire Dove sei tu Chiara? Io sono fuori Vicino alla mia zebra Fuori Adesso ucciderò La zebra Il tuo povero sederino lo ucciderò No Scusa Cosa sta facendo con la zebra? Ma vedete che è innamorata della zebra Adesso lo amaci con la zebra Perfetto Hai ammazzato la zebra Denis Sembrava che ammazzavi la zebra Avrei ammazzato anche il mio cuore Cosa? Sì esatto Perché lei è innamorata No ovviamente Quindi tutto quanto il cuore Vabbè Molto simpatica questa Comunque Siamo raggiunti alla fine di questo video Cari tunisiani Ok E con questa musica Io direi che Vi 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 lascio Alle vostre cose Cosa? Vi Mua Mando un bacione Mua Proprio Mua 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 Tutto così Tutto così Che poi Farò le corbellerie Sto rompendo tutto ragazzi Sto impazzendo Esatto Basta finendo Ho rotto tutto Ho rotto tutto Ho rotto tutto Vabbè No Funziona tutto Perfetto Ancora male Quindi tunisiani Grazie Per Non essere Non essere Per non aver commentato Con Brigola Esatto Perché se lo fate Allora Vi devo scrivere Nel Death Note Breath Note Quello che è Cosa è Breath Note Stai zitta Non è Il mio coso Per uccidere tutti Ok no Scherzo Ah la tua Zendina Anche qua Scherzo ovviamente Tutti quanti E quindi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao